Il Medio Oriente è una polveriera e se ci dovessero essere bombardamenti contro la Siria esiste il rischio di una guerra regionale. Intervistato dal quotidiano francese Louis Figaro, il presidente siriano torna clamorosamente a far sentire la sua voce ed a minacciare l'Occidente nel caso gli Stati Uniti dovessero decidere di intervenire con i raid aerei contro le regime. Dopo l'atto di accusa dal segretario di Stato americano John Kerry e proprio nel giorno in cui un rapporto dell'intelligence francese mostrerebbe le immagini satellitari dell'attacco con gas tossico del 21 agosto sulla periferia di Damasco, Bashar al-Assad replica le accuse di Washington e Parigi. Abbiamo sfidato gli Stati Uniti e la Francia a portare una sola prova. Obama e Hollanda ne sono stati incapaci anche davanti ai loro popoli. Il popolo francese non è nostro nemico, spiega, ma la politica del suo Stato è ostile al popolo siriano. Questo Stato sarà suo nemico. Questa ostilità finirà quando lo Stato francese cambierà politica. Ci saranno ripercussioni ovviamente negative sugli interessi della Francia. Chiunque operi contro gli interessi della Siria e dei suoi cittadini è un nemico. Bashar al-Assad nega di aver utilizzato i gas chimici perché, spiega, non sarebbe stato logico. Non dico, afferma, che l'esercito siriano possiedono tali armi. Supponiamo che il nostro esercito voglia utilizzare armi di distruzione di massa. È possibile che lo faccia in una zona dove esso stesso si trova e dove i soldati sono stati feriti da tale armi, come hanno constatato gli ispettori delle Nazioni Unite, recandosi in visita all'ospedale in cui sono ricoverati. Dov'è la logica?